In Sicilia esistono delle ottime professionalità e una rete onco-ematologica d'eccellenza, quindi ci sono tutti i presupposti per partire bene. Dopodiché è ovvio che gli ospedali che saranno centri di riferimento per le CAR-T dovranno avere una loro organizzazione interna dedicata con anestesista rianimatore, neurologo e alcune figure chiave, diciamo che devono essere in grado di rispondere a tutte le necessità di questa esperienza, di questa nuova terapia che è ovviamente assolutamente applicabile, si applica per la prima volta, quindi bisogna essere ben attrezzati all'interno dell'ospedale, avere una bella rete e poi ovviamente coinvolgere tutti i vari centri spoke della regione in maniera tale che i pazienti possano accedere facilmente e velocemente alla terapia.